Natale, zona rossa, nuove chiusure per bar e ristoranti nelle festività Covid 71 casi a Pesaro, continua lo screening, individuati 66 positivi Fondi comunitari nazionali, il bilancio comunale del 2020 Lo sport, fine settimana di vittorie e festeggiamenti per le squadre pesaresi Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Apriamo subito questa edizione parlando delle misure stanziate per queste festività natalizie E che troveremo in piena applicazione a partire dal giorno della vigilia Quando anche la Regione Marche entrerà in zona rossa A fare i conti con queste nuove indicazioni è anche il comparto della ristorazione Che dovrà rinunciare alle aperture dei locali e dei ristoranti per tutto il periodo delle festività Vediamo il servizio La provincia di Pesaro e Urbino si prepara ad osservare il calendario Che dal 24 al 27 dicembre e poi dal 31 fino al prossimo 3 gennaio Trasformerà anche il nostro territorio in zona rossa Torneranno quindi ad essere consentiti soltanto gli spostamenti utili Per motivi di lavoro, salute o necessità Insieme alla visita di massimo due persone ad amici o parenti all'interno delle abitazioni A rimanere aperte nei festivi e prefestivi saranno soltanto le attività considerate essenziali Tra cui supermercati, negozi di alimentari, farmacie, tabaccherie ed icole Nelle giornate in cui sarà vigente la zona arancione dal 28 al 30 dicembre insieme al 4 gennaio Sarà consentito lo spostamento all'interno del proprio comune Oppure dai piccoli centri abitati fino a 5.000 abitanti Per un raggio di 30 chilometri Senza però poter raggiungere i capoluoghi di provincia In zona arancione anche i negozi avranno la possibilità di alzare la sala cinesca fino alle ore 21 Mentre per tutto il periodo natalizio dal 24 dicembre al 6 gennaio Rimarranno obbligate le chiusure per bar e ristoranti I quali si trovano ora a fare i conti con una nuova riorganizzazione dei servizi Messi in campo per le feste Incentrando la propria attività sull'asporto Questa nuova disposizione rompe un po' gli schemi di quello che si era prefissato Più o meno tutti i ristoranti Perché erano già tutti pronti per lavorare a Natale Avevano già tutte le prenotazioni L'unica cosa che ci rimane da fare come ultima spiaggia è quello di fare l'asporto Per fortuna l'asporto anche se siamo in zona arancione rossa è consentito Quindi la gente si può spostare per venire a prendere il cibo se vuole ordinare qualcosa È andata un po' meglio dell'ultima volta perché ci hanno chiuso dal sabato per la domenica con tutti i pronotati E in questo caso ci hanno dato un po' di previso diciamo un in più Qualche giorno in più Qui ci sono delle aziende che sono veramente in ginocchio E quindi speriamo che dopo questo diciamo di PCM Posso veramente cambiare qualcosa perché se no le 5.000 persone in cassa integrazione E si presume più o meno il 20% delle aziende Saranno costrette veramente a chiudere Nei giorni in cui andremo a chiudere dal 24 in poi saremo sempre qui diciamo nei nostri locali Per comunque riuscire a stare vicino ai nostri clienti e continuare a dare il servizio almeno con il delivery Natale era pieno praticamente Sia la vigilia che il giorno di Natale Stiamo comunicando a tutti i nostri clienti che non è possibile pranzare al nostro anno in quei giorni Per Capodanno avevo messo in piedi sia per il 31 che per l'1 due pranzi che insomma simbolicamente festeggiavano questa fine e questo inizio Ma ahimè dai le normative sono queste quindi anche lì abbiamo dovuto disdire le pronotazioni Io come vedete alle mie spalle ho messo un cartello che sembra ironico ma non è ironico perché game over vuol dire che il gioco è finito Purtroppo non è mia abitudine lamentarmi però questa cosa del giallo, rosso, arancio C'è un po' a tutta la categoria diciamo dai ristoranti, bar a tutto il settore Eureka ci ha un po' sfiancato Ho fatto questa scelta proprio di chiudere e subito la mattina dopo il DPCDM che purtroppo è arrivato un'ora e tre quarti in ritardo Anche lì senza nessuna polemica però la mattina subito dopo ho telefonato tutti i prenotati che comunque già si immaginavano E io non facendo l'asporto ci rivediamo con gli auguri che farò adesso questi giorni telefonicamente Natale e Pasqua sono le due cardini della ristorazione Natale questi 20 giorni era il salva condotto per l'inverno A questo punto la chiudiamo qua, ripartiremo probabilmente a metà gennaio, speriamo che serva Ed è continuata anche in quest'ultimo fine settimana l'attività di controllo sull'osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 dicembre sono state controllate rispettivamente 259 e 337 persone Le violazioni amministrative contestate sono state due nella giornata di sabato e quattro in quelle di domenica Alle quali si aggiunge una persona denunciata Nelle due giornate sono state inoltre controllate 194 attività commerciali con la contestazione di un illecito E ora la pagina degli aggiornamenti Covid per quanto riguarda il nostro territorio Il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore Sono stati testati 1434 tamponi 889 nel percorso nuove diagnosi e 545 nel percorso guariti I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 162 di cui 71 in provincia di Pesaro e Urbino 8 invece i decessi comunicati nella serata di ieri dal servizio sanità E aggiornamenti arrivano anche sull'operazione di screening Marche Sicure Che nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre Ha rilevato un'adesione di oltre 25.000 persone con 126 casi positivi al test antigenico rapido Nelle due città di Pesaro e Urbino quasi 7.100 le persone che si sono sottoposte allo screening E sono stati riscontrati 66 casi positivi In totale la percentuale di positività è pari allo 0,5% Mentre la percentuale di adesione sulla popolazione target è dell'8% I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare E l'attività di screening andrà avanti fino a mercoledì 23 dicembre E ammontano a oltre 2 milioni di euro i fondi nazionali ed europei Destinati al comune di Pesaro per l'anno 2020 Grazie alle cifre raccolte sono stati diversi i progetti messi in campo A partire dalle riqualificazioni passando per il settore della cultura e dell'ambiente Fino a quello della formazione I dettagli in questo servizio È la fotografia di un bilancio straordinario Quella effettuata dal resoconto dei finanziamenti comunitari e nazionali Ottenuti nel 2020 dal comune di Pesaro In totale sono più di 2 milioni e 300 mila euro I contributi arrivati nelle casse del comune E tra gli interventi più importanti finanziati dall'Europa C'è Big Band Macro progetto da 480 mila euro Che prevede corsi di alta formazione nel settore culturale Ovviamente è un dato molto importante Pensiamo che nei sei anni precedenti eravamo arrivati complessivamente a 20 milioni Ma con partite importanti come gli 11 milioni di eliti 15 milioni di bandole periferie O i 4 milioni di eliti E quindi siamo non solo sopra media Ma anche con voci veramente importanti Che vanno da quasi 400 mila euro per il bando raggbull Che tiene insieme il contrasto al bullismo L'educazione rispetto allo sport e anche le politiche giovanili Cosa a cui ho lavorato particolarmente all'assessore Mila della Dora E anche l'obiettivo principale che raccontiamo oggi È l'inserimento all'interno dell'Horizon 2020 Che è un po' la Champions League della progettazione europea Dove siamo con l'unica città, insomma noi e Milano L'unica città italiana Assieme anche alla fondazione ENI Ma partner come l'Università di Cape Town L'Università di Gowru in Irlanda e tantissimi altri partner europei In questo caso particolarmente sul tema della bicipolitana E del lifestyle legato alla mobilità I bandi che l'amministrazione abbiamo lavorato Riguardo anche alle mie deleghe Il primo è il bando innovazione Che riguarda i fondi IT Dove abbiamo aiutato le imprese del nostro territorio E ricordo che questo bando è la prima volta che un comune lo rivolge direttamente alle imprese Tutto questo grazie appunto all'ufficio sviluppo opportunità L'altro bando fondamentale che abbiamo spinto come comune di Pesaro È stato quello proprio per i sistemi dei corsi universitari Quindi anche i ragazzi che frequentano il corso qua a Pesaro Per l'80% per i tre anni che frequentano il corso Avranno la possibilità di non pagare Il 2020 è stato un anno un po' particolare Ma comunque ci siamo impegnati moltissimo Per portare avanti quelli che erano dei progetti Che secondo noi, secondo me, sono delle buone pratiche Sono assolutamente importanti per far vedere anche quella che è La direzione che l'amministrazione comunale intende intraprendere Una è il tratto della pista ciclabile di Evidente del Porto Che amplia la nostra bicipolitana e sicuramente va a abbellire quella che è la zona portuale Sempre parlando di porto, molto importante è l'isola ecologica Per il recupero delle plastiche in mare Che più volte abbiamo presentato Ma che comunque a breve vedremo anche iniziare i lavori Ultimo passo è quello dell'efficientamento energetico Dell'edificio comunale di Firenzola di Focara Perché limitare quelli che sono le emissioni in atmosfera Da parte di edifici che sono ormai un po' vetusti E che quindi sono energivori E' molto importante per contenere le emissioni in atmosfera E il miglioramento dell'atmosfera che respiriamo E romba la solidarietà nel comune di Pesaro Che sabato scorso ha spedito tramite una slitta motorizzata I 60 pacchi Scaldacuore che Caritas Pesaro Associazione Braccia Aperte e Città della Gioia Consegneranno alle persone in difficoltà I 60 biker dell'associazione Wolf Riders di Pesaro Hanno sfilato per le vie del centro storico Fino a giungere in piazza del popolo Vestiti a festa per scortare la consegna dei doni Quest'anno un'iniziativa particolare Che si è riadattata un po' alle esigenze anti-covid L'anno scorso abbiamo organizzato una cena Come consiglio comunale Abbiamo raccolto delle risorse Per acquistare delle carrozzine pediatriche Che abbiamo poi donato all'ospedale Quest'anno invece abbiamo dovuto reinventarci Questa cosa delle scatole del regalo È un'iniziativa virale nata a Milano Che abbiamo raccolto a Pesaro Abbiamo chiesto alle associazioni Braccia Aperte Città della Gioia e Caritas Quali fossero, se ci fossero delle famiglie Con bambini, adulti, uomini e donne Che non avevano la possibilità di aprire un regalo natale Ecco che è partita la solidarietà Abbiamo raccolto come consiglio comunale Come giunta delle scatole del regalo Come una cosa buona, una cosa calda all'interno Una cosa utile e una cosa divertente Quindi i bambini troveranno un giocattolo Un libro, un paio di guanti E qualche dolce Gli adulti ugualmente troveranno qualcosa di utile Qualcosa di caldo In un anno molto difficile Abbiamo provato a cercare di dare un sorriso Ai bambini che soprattutto Più di ogni altro hanno sofferto Durante tutto questo periodo dell'anno Per la riduzione della socialità E abbiamo cercato di donargli un pochino della magia del Natale Che comunque tutti noi ci ricordiamo fino a quando eravamo piccoli Questa è un'iniziativa che ha voluto cercare di portare un raggio di luce In un anno molto buio E ci auguriamo che sia l'ultima volta che dovremo farlo con queste mascherine Che dovremo farlo donando a distanza dei pacchi Mentre ci auguriamo che potremo ritornare a vivere la socialità Come una volta cercando di donare con il contatto e con la presenza E soprattutto con l'amore Quello che è il significato del Natale E soprattutto ai bambini Ed è stato siglato l'accordo tra il Comune di Fano e il Mibact Per la valorizzazione del patrimonio immateriale Si comincia con due elementi che definiscono da sempre la città della fortuna Carnevale e marineria Una collaborazione questa che si estenderà anche su altri settori E che mira a riportare Fano al centro del mercato turistico Il servizio è di Simone Celli Tirare fuori i propri assi dalla manica Trovare i miglior partner sulla piazza E giocare al meglio la propria partita È quanto sta facendo la città della fortuna Per promuovere alcuni dei suoi aspetti più identitari Come il Carnevale e la marineria Tradizioni che potranno trovare nuovo slancio turistico Grazie alla recente firma del protocollo d'intesa Tra il Comune di Fano e l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Mibact Un documento che definisce le azioni condivise Che potranno rendere la città sempre più attrattiva Soprattutto se si riuscirà a conferire al Carnevale di Fano Lo status di patrimonio immateriale dell'UNESCO E se il Programma Nazionale del Mibact Per la valorizzazione della marineria Potrà davvero partire dalla città della fortuna L'impegno dell'Istituto è l'impegno a fornire Un supporto tecnico-scientifico al Comune di Fano Nel caso specifico Appunto per attività di documentazione Di salvaguardia e di valorizzazione In Italia e all'estero Del patrimonio culturale immateriale Partiremo dal Carnevale e dalla cultura marinara Ma quasi sicuramente amplieremo i nostri interessi Le nostre modalità di collaborazione Anche da altri aspetti Del patrimonio culturale immateriale Come altri eventi rituali e festivi O la tradizione necaastronomica e così via La firma dell'accordo con il Comune di Fano Rientra in un'attività progettuale Che l'Istituto sta portando avanti con i territori Le Marche sono una regione che comunque è un punto di riferimento per noi Perché abbiamo già avviato una serie di progetti Con Porto San Giorgio per esempio e con Urbino E quindi lavorare anche con Fano per noi è importante Perché si tratta di estendere a livello territoriale Un lavoro che comunque deve avere un riscontro Non strettamente locale Ma un riscontro appunto su territori più ampi Questo è un momento importante Abbiamo siglato questo protocollo Che in qualche modo è un altro pezzo del mosaico Su cui stiamo lavorando Cioè quello di far crescere sempre più la nostra città Sotto l'aspetto culturale Ma come ho detto vorrei riportare Fano Sulla mappa culturale del paese Per fare questo bisogna valorizzare Quelli che sono i nostri elementi caratterizzanti La nostra vivacità culturale Le nostre attività e le nostre iniziative È importante il nostro patrimonio monumentale Ma è anche importante tutto quello che è legato A cominciare dalle nostre tradizioni E dai nostri legami con la nostra identità Due elementi forti sono quelli del carnevale Quello del marineria E con questo protocollo c'è una collaborazione Tra il Ministero e il Comune di Fano Con un obiettivo anche ambizioso Quello di arrivare anche con una candidatura di Fano Per il riconoscimento del patrimonio immateriale Del carnevale e dell'artigianato artistico Legato a questo A cominciare dai maestri e carristi Quindi è un'altra tappa Un altro momento importante di crescita Per la nostra città Ma soprattutto è anche un riconoscimento Perché quando il Ministero sigla un accordo Non lo fa con tutti Ovviamente lo fa quando ci sono anche quei elementi Che reputano giusto E diano valore al protocollo All'impegno che ci si assume Ed è stata presentata a Orciano di Terre Roveresche L'edizione 2021 dell'itinerario della bellezza Tante le novità del progetto targato ConfCommercio Con l'inserimento di Tavullia e Sasso Corvaro Tra i comuni aderenti E alcune iniziative legate allo sport e alla green economy Ancora Simone Celli Squadra vincente si cambia L'itinerario della bellezza di ConfCommercio Pesaro Urbino Marche Nord Perde un pezzo ma ne conquista altri due Fuori Sant'Angelo Invado dunque E dentro Tavullia e Sasso Corvaro Ma questa è soltanto una delle novità dell'edizione 2021 Presentata sabato a Orciano di Terre Roveresche Iniziative legate anche a sport, ambiente e spiritualità Che vanno ad arricchire un progetto di promozione turistica Che anche quest'anno Nonostante il covid e con la complicità di social e web Ha saputo portare in giro per il mondo Vedendo le bellezze delle nostre città e dei nostri borghi Nel mese di maggio presenteremo alla BIT di Milano La nuova edizione 2021 L'itinerario della bellezza Che oltre ad avere appunto questi nuovi comuni Conterà anche delle novità all'interno della guida stessa Che riguardano gli altri comuni E con una sottolineatura da parte di un nostro partner Che è ERA, il gruppo ERA In merito alla green economy All'energia verde Alle bike Cioè a quel mondo di turismo sostenibile Che è proprio a misura dell'itinerario della bellezza Con Tavullia peraltro Possiamo mettere in rete L'offerta sportiva della città Non solo legata al motociclismo Ma anche allo straordinario impianto di tiro a volo Che c'è nella frazione In una frazione di Tavullia Il percorso poi dell'itinerario Si completa quest'anno Oltre con la ripresa delle fiere Che speriamo siano consentite nei prossimi mesi Con la realizzazione dell'itinerario Dei luoghi del silenzio e della fede Vogliamo mettere appunto in rete Dare al turista un'altra opportunità Di visitare il territorio Attraverso Eremi Chiese dove c'è un forte sentimento religioso Qui nel comune di Terre Roveresche Abbiamo individuato la chiesa di San Pasquale A San Giorgio Ma pensiamo anche di inserire Adesso ne parleremo con il sindaco Una chiesa qui a Orciano Quindi un programma di tante iniziative Ma l'obiettivo è sempre questo Valorizzare, promuovere il turismo sostenibile Dell'itinerario della bellezza Tante idee dunque Per mettere in vetrina le peculiarità di comuni Che altrimenti da soli non avrebbero La stessa potenza di fuoco sul mercato turistico Grazie all'itinerario della bellezza Ci permette di valorizzare le nostre perle che abbiamo Santa Maria Nuova a Orciano La città ideale di Filippo Terzi Le varie chiese sparse nel nostro territorio Il muso di San Giorgio E poi la perla di Piagge che è l'Ipogea Il fatto di essere con la Confcommercio Nell'itinerario della bellezza Ci permette chiaramente di avere Un volano di promozione Che da soli era impossibile avere E nelle passate giornate Ha avuto luogo presso la caserma del monte La successione al vertice Del ventottesimo reggimento Pavia Il colonnello Massimo Marceddu Ha ceduto il comando Al colonnello Andrea Martellotti Il cambio avvenuto in forma ridotta In stretta osservanza Delle norme imposte per limitare La diffusione del Covid Ha visto la presenza di autorità religiosi Militari e cittadine del capoluogo marchigiano Che hanno voluto portare il loro saluto Al comandante cedente E dare il benvenuto al subentrante Ed è stata inaugurata lo scorso sabato In Viale Trieste L'altezza dell'incrocio con via Monfalcone Una nuova altalena inclusiva Gioco che permette l'accesso Anche a bambini diversamente abili L'installazione fa parte del progetto Altalena inclusiva dell'associazione Genia Che in passato aveva donato alla città Anche una hang bike Una bici per genitori con figli diversamente abili Che si può noleggiare gratuitamente al curvone E la bici politana di Pesaro È stata protagonista del quiz televisivo In onda su Rai 1 L'eredità Tra le domande sottoposte ad uno dei concorrenti in gara C'è stata anche quella riguardante La rete di ciclabili pesarese Alla quale si è ispirata anche Parigi Nuova iniziativa di solidarietà Dedicata alle famiglie pesaresi Ad annunciarla è SOS Pesaro Il comitato costituito da una rappresentanza del Consiglio E della Giunta Comunale Che ha approvato una nuova raccolta fondi Destinata a chi ne ha più bisogno I cittadini potranno fare donazioni tramite Paypal Oppure tramite il conto corrente SOS Pesaro Per ogni 10 euro devoluti Sarà consegnato un voucher Alle famiglie bisognose Individuate dai servizi sociali E partirà questa sera Andrà in onda tutti i lunedì alle 21.15 Su Rossini TV Palcoscenico Marche Un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro In collaborazione con Regione Marche Amat e alcuni comuni del territorio Che attraverso 14 brevi documentari Racconterà architetture, ambiente e arti Nella provincia di Pesaro e Urbino Dando risalto allo stesso tempo Al settore dello spettacolo Che risulta essere tra i più colpiti A causa della crisi del Covid-19 Ci siamo chiesti come fondazione Con tutti i nostri organi Come potevamo rivisitare La nostra attività istituzionale In termini di risorse disponibili Di settori di intervento E di modalità di intervento Di fronte a un evento eccezionale La risposta doveva essere Non dico eccezionale Ma comunque particolare E forse anche inusuale Quindi superare le consuete abitudini Della fondazione Per andare incontro In una maniera diversa A queste esigenze In questo contesto Dicevo è nata l'idea Dal confronto con la nostra socia Lucia Ferrati È nata un'idea Facciamo qualcosa per questo settore Particolarmente diciamo Colpito da questa situazione Sia come autori Sia come diciamo artisti Che come operatori del settore Dall'idea Grazie appunto a Lucia La nostra socia Lucia Ferrati È nato un progetto Il progetto appunto Di realizzare Dei piccoli spettacoli Dei piccoli video Che potessero Diciamo così Soprattutto nei confronti Di autori Di artisti giovani Se poi il progetto È stato anche Diciamo così Sopportato da qualche Chicca particolare Di qualche particolare Intervento Ma è rivolto Essenzialmente ai giovani Non solo per poter Dare un minimo Seppur comunque Concreto sostegno Economico Ma soprattutto Per poterli far esprimere Perché poi nel lavoro Sta la dignità Delle persone Secondo noi Che Questo fa parte Del nostro modo Di operare Come fondazione E quindi da qui È nata questa Questa è bella idea Abbiamo Naturalmente applicato Questa regola Se vuole A un po' Tutti i nostri settori Di intervento Oltre all'arte L'abbiamo applicata Ad altri settori Per quanto riguarda L'istruzione Che è comunque Un settore Che ci vede coinvolti Abbiamo dedicato Particolari risorse A tutte le scuole Chiamando tutte le scuole Ad esprimere Necessità Esigenze Dal punto di vista Di avere disponibilità Economiche Immediate Per poter fare Degli interventi Necessari L'abbiamo applicato Nel volontariato Avendo un particolare Riguardo A quelle che sono Diciamo così Gli enti sovraordinati Quelli che per Diciamo esperienza Per abitudine Sono più vicine Ai bisogni E all'interpretazione Dei bisogni Della collettività Quindi a tutto tondo Abbiamo cercato Di dare questa risposta Nei limiti Delle nostre possibilità Il progetto Diciamo si basa Su due grandi Fondamenta Uno è Due grandi verità Io le definisco La bellezza straordinaria Dei territori Della provincia Di Pesaro Urbino Quindi sia architettonici Che ambientali Quindi creati Dall'uomo O dalla natura E la bravura Dei tanti artisti Che abitano I nostri territori Artisti che sono O nati qui Oppure che hanno scelto Di vivere qui Pur venendo Veramente anche Da altri continenti Quindi un'idea Che può essere definita Un uovo di Colombo Molto semplice Ma che in realtà È vincente È proprio perché Si basa Ripeto Sulle verità Delle cose Ne sono nati Appunto questi 14 brevi documentari Che si dividono Un po' in due parti Nella prima parte Con un cicerone Ecco Entriamo In questi luoghi Per conoscerli Anche luoghi Delle volte Che non sono Così facilmente Aperti al pubblico E la seconda parte Invece È rappresentata Proprio da Il palcoscenico Vero e proprio Nel senso che Tutti questi luoghi Si prestano ad essere Dei straordinari palcoscenici Per artisti D'eccezione Tra questi Abbiamo già avuto modo Insomma Di presentare Il più giovane Di tutti Nel cuore Che è il maestro Glauco Mauri Che insieme alla Giovanissima Francesca Gabucci Ha dato vita Ad un'interpretazione Del canto quinto Proprio nella stanza Di Gradara Dove ecco Si dice Nella leggenda Che successe Il fatto appunto Di Francesca Di Francesca Darimini E davvero Ecco Un inizio splendido Per questi documentari Ma è l'unica presenza Attoriale In realtà Abbiamo scelto Più che altro Non solo perché siamo Patrimonio UNESCO Della musica Ma abbiamo scelto Soprattutto musicisti Perché la musica È un linguaggio Come si sa Universale E questi video Poi vorranno Ecco Girare un po' Il mondo Si prevede anche Una sottotitolazione In lingua inglese Per dare la possibilità A tutto il mondo Di conoscere Questi nostri Meravigliosi luoghi Che spesso Non conosciamo Neanche noi Di casa Ecco Quindi Dal Particolare All'universale Per conoscere E dare vita A questi nostri luoghi E chi in questo weekend È transitato Fra corso 11 settembre E via Cavour Ha potuto apprezzare Una mostra Molto particolare Quella Dell'artista E fotografo Adriano Gamberini Che si presenta Con una modalità Innovativa Di esposizione Vediamo qual è Nel servizio Di Daniele Sacchi Sempre più spesso L'arte Si abbina Alla tecnologia Questa volta Però Si allarga pure Al rispetto Delle normative Anti-Covid E quanto accade Da venerdì scorso Al centro artivisive Pescheria Che ospita Una mostra Apprezzabile Dall'esterno E non Dall'interno Del museo Chi transita Su via Cavour Può infatti Gustarsi La foto installazione Di Urban Art Realizzata Da Adriano Gamberini Fotoreporter Marchigiano Che attraverso La mostra Dal titolo Lo stupore Dentro Trasmette Una emozionante Esperienza Di sensazioni umane E di ambientazioni Suggestive È una mostra Completamente diversa Dalle solite mostre Che siamo abituati A vedere Che ho sempre presentato In un certo modo Mi hanno prospettato Quest'ipotesi Qui di mostra Che all'inizio Mi ha lasciato Abbastanza perplesso Perché non capivo bene Come realizzarla Ma in realtà Adesso che È quasi installata Completamente Secondo me È stupenda È un'idea bellissima Che consente Di vedere Tranquillamente In sicurezza La mostra Dall'esterno Con queste proiezioni Che vanno Dall'interno Verso l'esterno Il titolo stesso Lo stupore dentro E lo stupore Nel vedere Delle cose all'esterno Che non siamo abituati Vuol dire Lo stupore dentro Mi sembra adatto Anche per questa mostra Il soggetto Delle proiezioni Qual è? Io sostanzialmente Fotografo All'essere umano Mi incuriosisce Mi affascina Sempre In questa mostra In maniera particolare Però ho portato Anche delle foto Di paesaggi Oddio Che non sono proprio I paesaggi Sono delle Diciamo Essenze di paesaggio Degli estratti Di paesaggio Che mi sembrano Particolarmente Adatti In questa circostanza È un'esperienza Particolare Perché abbiamo Tra virgolette Lottato Per realizzare Questa mostra Con tutte le normative Anti-Covid Di sicurezza E di igiene sanitaria Che ci sono In questo momento A causa della pandemia Abbiamo pensato Di realizzare Una mostra Tutta al digitale Ed esclusivamente Visibile dall'esterno Quindi c'è tutto Il porticato Della pescheria Che sarà visibile Solo ed esclusivamente Da fuori In tutta sicurezza E come ogni lunedì In chiusura Del nostro telegiornale Apriamo la pagina Sportiva Per raccontarvi I risultati Di tutti i match Che hanno visto Impegnate Le squadre pesaresi Esultano Carpegna Prosciutto Basket Vis e Ital Service Mentre l'Alma Juventus Fano Deve rinviare Festeggiamenti A causa Di una nuova sconfitta Il fine settimana Sportivo Appena trascorso Ha regalato Diverse vittorie Alle squadre pesaresi Impegnate Nei diversi match In programma Per quanto riguarda Il basket La Carpegna Prosciutto Pesaro Ha messo a segno Una vittoria Eccezionale Al pala Pentasuglia Di Brindisi Contro gli avversari Capolista 92-81 Il risultato finale Della dodicesima Giornata di Serie A Sulla quale ha espresso Grande soddisfazione Anche coach Repeja Unica nota negativa Del match La frattura scomposta Del radio Della mano destra Riportata da Franz Massenat Per la quale Non si prospettano Brevi tempi di recupero Da una parte Ci volevano perché Dopo due sconfitte Diciamo Contro le squadre Nostra Faccio il nostro livello Contro Treviso E contro Fortitudo Per Riprendere fiducia Prima di tutto Per il lavoro Che abbiamo svolto Questa settimana Come ho detto Prima della partita Dopo lungo tempo Dopo problemi Con Covid Dopo una sosta Dopo problemi Con importuni Vari Come scavigliate Come problemi Con schiena Siamo riusciti Tutta la settimana A lavorare Veramente bene E Abbiamo visto Una squadra Da primo a secondo Come entrata Con quale determinazione Con grande voglia Fare bene Grande voglia Vincere Contro Capolista Che fino adesso Ha dominato Contro tutti Non possiamo dimenticare Che hanno vinto Contro Virtus A Bologna Contro Passiamo al calcio A 5 Perché Little Service Vince anche a Roma Con un 4-3 Sul campo Della Cybert La Niene Quarta vittoria Consecutiva In Serie A Per i ragazzi Di Mister Colini Che sono pronti Ad incontrare Mercoledì Al Palanino Pizza Gli avversari Dell'Acqua e Sapone Notizie positive Arrivano anche Dalla Vis Pesaro Che nella partita Disputata ieri Allo Stadio Benelli Si è imposta Sull'Arezzo Per 3-2 Il valore è alto Io l'avevo detto Affrontavo una squadra Importante Dovamo fare una partita A Gagliarda L'abbiamo fatta Abbiamo fatto degli errori Che abbiamo rimediato E alla fine Penso sia stata meritata Questa è la forza Di questa squadra Che non molla mai Ha la forza appunto Di venire sempre fuori Di non abbattersi mai Perché come ho sempre detto Le partite durano Fino a quanto l'arbitro Non fa il triplice fischio Non è importante Se si sta sotto Se si sta in vantaggio Bisogna lottare Su ogni palla Fino alla fine Io sono contento Per i ragazzi Perché hanno portato a casa 3 punti Abbiamo dato quella Conte dei risultati Che ci mancava Prescindere dall'Arezzo Era una partita Che dovevamo fare nostra E l'abbiamo fatta Sicuramente da domani Dobbiamo iniziare a pensare A fermare Perché per noi È un altro banco di prova Non ci dobbiamo fermare Adesso sul più bello Dobbiamo accelerare So che è una partita Dobbiamo recuperare Più energie possibili Ma abbiamo la forza Adesso c'è l'entusiasmo E dobbiamo andare a fermo A fare un altro risultato positivo Dobbiamo continuare Dobbiamo continuare Su queste strade E poi tireremo le somme Risultati meno confortanti Arrivano invece Dall'Alma Juventus Fano Che in trasferta Contro il Modena Ha registrato Una nuova sconfitta La finesima situazione Da palla ferma Che purtroppo Non riusciamo A tolgerci Questa maledizione L'attenzione Manca l'attenzione Manca Manca anche Un po' di rabbia Poi è chiaro La partita Si è complicata E poi Alla fine Anche la stanchezza Sulla andata E questa era davvero La nostra ultima notizia Vi ricordo La prima serata Di Rossini TV Che partirà Alle 21.15 Con questo nuovo appuntamento Palcoscenico Marche A seguire Alle 21.30 Una nuova puntata Della rubrica Sviluppo Marche Per l'economia Del territorio Della nostra regione Domani invece Tutto lo staff Di Rossini TV Vi aspetta In diretta A partire Dalle 21.15 Per un appuntamento Speciale E per farvi Gli auguri di Natale In vista dell'inizio Di queste festività E sempre durante Le festività natalizie Rossini TV Trasmetterà Alcune celebrazioni Nello specifico Quella del giorno Di Natale Quindi il 25 dicembre Trasmetteremo In diretta Dal Duomo di Pesaro La messa A partire dalle ore 11.30 E poi Il primo gennaio Alle 18.30 Questo era davvero L'ultimo avviso Per questa edizione Del nostro telegiornale Vi ricordiamo Che l'informazione Torna puntuale In diretta domani mattina Alle 7.20 Con la nostra Rassegna stampa Grazie per averci seguito E vi auguriamo Un buon proseguimento Di serata Su Rossini TV Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito